Un documento programmatico in grado di contribuire all'integrazione dei giovani nel mondo dell'agricoltura senza dover migrare dal proprio paese, formare e creare sinergie per dar vita a nuovi scenari di sviluppo. Parte da qui l'impegno dell'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari, che in occasione del World Food Day ha voluto ospitare una nutrita delegazione tra ambasciatori e funzionari dei 15 paesi dell'Africa subsahariana, oltre ai rappresentanti dei ministeri italiani, dalle affari esteri, del lavoro, delle politiche agricole e forestali. Tanto per lo IAMB quanto per questi paesi, la risorsa sulla quale investire è quella data dai giovani. Saranno loro, infatti, a dover mettere in pratica le conoscenze. I nostri ragazzi sono qui, sono dei talenti, devono essere stimolati, devono essere supportati, devono essere accompagnati. E questo accompagnamento significa anche mettere in condizione di conoscere il diverso. Noi, lo dicevo, anche scherzando, vorremmo essere diversamente intelligenti. Cioè mettere a disposizione altri strumenti, delle alternative. E queste alternative appartengono a un mondo totalmente diverso, che sta cambiando, molto difficile, ma molto bello e appassionante. L'esperienza dei giovani, tra l'altro, oggi si arricchisce anche del rapporto di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari. Le opportunità per i nostri giovani sono tante. La collaborazione con l'Istituto è per noi una risorsa straordinaria, per le aperture internazionali, per la progettualità, per la costruzione anche di un modello di sviluppo che può giovare al nostro territorio e al futuro dei nostri giovani. Lo scambio di informazioni, quindi gli input lanciati nell'ambito di un confronto durato ben due giorni, ha fornito quegli elementi necessari allo IAM per arricchire e completare questo documento sull'agroalimentare, dove la prima mission è quella di mettere insieme il mondo della ricerca con il mondo della produzione. Straordinari gli scenari di cooperazione che sono stati prospettati, primo fra tutti quello con la Somalia. Per noi è stata un'opportunità e speriamo e crediamo e siamo sicuri che ne uscirà fuori qualcosa di buono, perché oltre il Mediterraneo adesso mettiamo insieme anche tutta l'Africa. Questi piccoli passi saranno grandi passi per l'Italia e per l'Africa. L'interesse dei paesi dell'Africa subsahariana è incentivato anche dalla necessità di dare maggiore slancio e maggiore sviluppo all'economia del paese, dove, dicono, il materiale umano e la conoscenza resta il nodo principale. Il punto critico, l'elemento critico in Etiopia è proprio quello delle risorse umane, delle conoscenze. L'istituzione del Siam potrebbe aiutare molto l'Africa a sviluppare le sue capacità grazie alla formazione, non solo in Etiopia ma in tutti i paesi africani.